Torniamo a parlare di calcio. 8 minuti, 3 gole, la partita cambia da così a così. Il collegamento vince e alla ribalta torna l'ospite che abbiamo questa sera, che è Manuel Sinato. Buonasera. Buonasera. Io cosa posso fare? Cercare di allenarmi e di stare bene, così da poter dare una mano quando ce n'è bisogno in campo.